Lo spiavano per reperire informazioni nell'ambito del procedimento Bissa dell'inchiesta a Due Torri, quella relativa agli appalti truccati in provincia di Salerno, ma la cimice posizionata nella stanza dell'ex assessore di Palazzo Sant'Agostino, ora sindaco di Agropoli al secondo mandato, ha svelato altro, ben altro, tant'è che a carico di Franco Alfieri sono arrivate nuove accuse. Il noto primo cittadino cilentano è stato intercettato, mentre nella sua stanza, Palazzo di Città, prometteva una casa e un lavoro a esponenti del clan Marotta. Un gruppo criminale ben radicato sul territorio agropolese e che per il sindaco Alfieri ha già significato un avviso di conclusione delle indagini, un atto scaturito dal mancato controllo sui beni per lo più appartamenti, già confiscati al sodalizio e affidati dai giudici ad Alfieri. Le conversazioni intercettate tra il primo cittadino e gli esponenti del clan degli Zinguari risalgono allo scorso anno e ora, dopo la trascrizione, sono state depositate dal procuratore aggiunto Antonio Centore agli atti del procedimento per la confisca dei beni di Marotta. L'inchiesta, che oltre ad Alfieri, vede coinvolti anche due funzionari comunali, indagati anche loro per aver consentito al sodalizio degli Zingari l'uso di tre appartamenti sequestrati nel 2008 e affidati, come già detto, al Comune. Favori che Alfieri e i suoi avrebbero concesso per rattorno a conti elettorali. Grazie.